buongiorno a tutti da ermanno frassoni motor phone tv oggi siamo con antonio tamburini vincitore nel 1989 del gran premio di monaco di formula 3 con il team prema racing nonché primo uomo andrea moda formula al motor show di bologna del 1991 benvenuto antonio innanzitutto e grazie per aver accettato il mio invito grazie grazie a voi ci mancherebbe andiamo subito al dicembre 1991 forse non tutti si ricordano che dopo aver rilevato il materiale della scuderia coloni il team andrea moda formula si appresta a mostrare per la prima volta i propri colori al motor show di bologna nel trofeo indoor di formula 1 innanzitutto come sei entrato in contatto con il team di andrea sassetti e come è maturato l'accordo per diventare pilota andrea moda al motor show allora innanzitutto bisogna andare un po indietro negli anni perché io sono ho iniziato a debuttare in formula 3 con la reina d'alfa romeo q8 malboro insieme a dino capello con coloni e quindi questo già quattro anni prima di questa di questa avventura diciamo al motor show e quindi il fatto di di essere stato un pilota coloni molto tra l'altro molto stimato io da loro e loro da me siamo rimasti poi in contatto sempre anche dopo il l'anno appunto passato insieme con con la reina d'alfa romeo il mio debutto in 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 formula 3 e questo ha fatto sì che poi io avessi vari diciamo vari test in con la loro macchina e poi dopo diciamo è stato anche l'ingresso per per fare il debutto nella gara del motor show con la con la sassetti appena appena fu passata di mano la colonia appunto che ricordo hai di quell'edizione del motor show che ti vide appunto scendere in pista sulla coloni c4 schierata dal team andrea moda formula ma allora innanzitutto parliamo sempre eh di formula 1 e quindi quando anche tuttora quando ci troviamo con i piloti diciamo eh ex colleghi di formula 3 che non abbiamo avuto il piacere di guidare Williams McLaren o Ferrari ma eh abbiamo navigato diciamo su queste vetture eh molto direi meno competitive eh che all'epoca era c'era un bel parterre perché comunque sia le macchine non erano venti ma erano forse quaranta e c'era una una grossissimo schieramento di vetture che facevano le prequalifiche e l'andrea moda e la colonia erano una di queste ma eh ripeto sempre di formula 1 si trattava quindi a tutti gli effetti anche se andavano tre secondi più piano piuttosto che eh venti chilometri meno nel rettilineo però era comunque sempre una formula 1 quindi l'emozione per un pilota molto molto giovane era tanta e la macchina comunque eh aveva tutte le caratteristiche di di un formula 1 quindi fu veramente molto molto appassionante e divertente e tra l'altro con ottimi risultati perché dopo tutte le varie prove qualifiche arrivai alle eliminatorie e eliminai Johnny Herbert con con la Lotus e eh persi nella semifinale da Gianni Morbidelli con la Minardi Ferrari eh perché nella seconda mancia io abbi un problema al cambio e mi fermai quindi sicuramente fu una bella esperienza eh che monoposto era la coloni dell'andrea moda eh ricordo che sempre nel 1991 hai effettuato dei test sulla coloni c4 della scuderia coloni appunto c'erano delle differenze tra la c4 della coloni e la c4 invece dell'andrea moda del motor show oppure si trattava sostanzialmente della stessa vettura? ma ma il allora la vettura la vettura io coloni ho fatto vari test con loro e sia con la vettura diciamo gialla eh quella con cui correva Gabriele Tarquini e mh con il motore Cosworth e e questa era quella che più assomigliava diciamo alla alla anzi praticamente era la stessa vettura trasformata in in Andrea Moda mentre il io poi con la coloni ho fatto anche i test in un giorno di test a Imola dove c'era collettivo per tutta la Formula Uno con la coloni con il motore Subaru Subaru Boxer un Danti Formula Uno in pista e e due perché nel mio piccolo fui chiamato a sostituire Gas Show che provava la macchina il giorno prima che era pilota di coloni e e andai molto bene e addirittura più abbastanza più veloce di di Gas Show quindi diciamo io mi uscì abbastanza soddisfatto eh cosa puoi raccontarmi invece dello staff Andrea Moda Formula al motor show del eh di quanto personale eh di quanto personale disponeva la squadra Bologna e che figure c'erano? Ma guarda allora innanzitutto il tutti i team Formula Uno dalla Scudere Italia a Minardi la Lotus che c'era quell'anno Andrea Moda ovviamente era uno staff molto ridotto perché ovviamente non c'erano pit stop non c'erano a cambio di gomma in corsa e e quindi era così un facevamo le le sfide le sfide le mance come come con il classico eh schema eh previsto dal motor show a dal rally al al poi dopo negli anni successivi al superturismo e tutte le gare che ci sono state con le mance eliminatorie poi stavi fermo venivano fatte tutte le 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 modifiche e le correzioni poi montavi le gomme riuscivi di nuovo per un'altra per un'altra sfida quindi non c'era bisogno di di moltissimi meccanici quindi tutti i team avevano un uno staff abbastanza risicato e io per quello che ricordo io avevo a che fare con un po' con tutti i tecnici che che provenivano da Coloni quindi io sono rimasto diciamo dentro sempre dentro casa e dentro il guscio del del Coloni team insomma E quante persone c'erano all'incirca al seguito dell'Andrea Moda? Ma lì nel nel nell'evento nella gara del motor show sono erano circa sotto le dieci persone ma questo non solo per l'Andrea Moda ripeto anche Lotus o Scudere Italia o Minardi avevano più o meno le stesse lo stesso staff un staff che non aveva niente a che vedere con con quello che seguiva il gran premio C'era una figura manageriale di riferimento lì a Bologna a parte Andrea Sassetti immagino? No io ho fatto ho fatto tutto compreso anche la messa a punto della vettura con un ingegnere ma anche con il supporto di Enzo Coloni e c'era Andrea Sassetti nella qualità di di nuovo patron diciamo del del team Che motor show era quello del 1991? Parliamo di una Kermess motoristica che godeva di ottima salute all'epoca Eh sì quello era era un un motor show di quelli di quelli importanti insomma si vede anche tra l'altro io ho ritrovato un non so se si vede qua Sì qua ci sono delle delle foto di un Deplian dell'Andrea Moda che era della presentazione del team dove la gran parte delle foto Anzi la totalità delle foto sono foto della mia della mia gara del motor show non so se si riesce a vedere Sì sì Questa è la vettura la vettura diciamo in primo piano e anche dalle foto all'interno si vedono proprio le foto delle della vettura al motor show e le tribune piene Perché ovviamente l'area 48 dove si svolgevano tutte le manifestazioni principali in quegli anni era veramente un un'attrazione veramente veramente importante Insomma c'erano c'erano file a entrare file a uscire si bloccava si bloccava Bologna fino dal dall'ingresso dell'autostrada Quindi era sicuramente una manifestazione che muoveva grandissime masse Ho capito E dopo il motor show di Bologna hai più avuto modo di salire sulla Coloni del team Andrea Moda Formula? Se sì ricordi il contesto e magari il circuito? No allora io non ho più fatto dei test con con l'Andrea Moda anche perché diciamo che in quel periodo Come ti dicevo prima i team di Formula 1 soprattutto questi team di Formula 1 vivevano dei momenti abbastanza difficili Praticamente facevano quasi esclusivamente pre qualifying e non riuscivano a entrare dentro E quindi c'erano delle situazioni anche economiche abbastanza difficili E io non so se facendo bene o facendo male avevo fatto i test con Coloni I test con Andrea Moda Poi dopo fu chiamato dall'AGS grazie all'ingegnere che era sempre il mio ingegnere Peter Wiss Che era il mio ingegnere da Coloni che era passato in AGS E sempre Gabriele Tarquini che era pilota insieme dal MAS di quella vettura Fu chiamato per sviluppare il cambio trasversale quindi fece tutta una serie di test in Francia Però contemporaneamente io avevo iniziato dopo la Formula 3 e Formula 3000 Avevo iniziato a correre in superturismo e a fine 91 io non potendo firmare con Cioè la Camel si ritirò da tutte le competizioni mondiali E io avevo poi dopo firmato un contratto con la La Russi Lamborghini Però quando la Camel si ritirò io avevo un contratto per correre con Alfa Romeo Con la 155 GTA nel campionato italiano superturismo Le sole tre gare libere dal Formula 1 Quando Camel mi comunicò che avrebbe abbandonato tutte le sponsorizzazioni Formula 1, il Parigi Dakar, moto mondiale Tutto quanto io chiamai in Alfa Romeo Mi resi disponibile per le gare diciamo per tutto il campionato Loro accettarono e quindi io dal gennaio 92 diventai pilota ufficiale Alfa Romeo a tutti gli effetti E mi sono fatto circa dieci anni di superturismo Quindi non so se sinceramente dirti se mi sono precluso ulteriori possibilità magari di rimanere E forse trovare il buco giusto in Formula 1 Oppure voltare pagina, prendere una cosa certa che era le gare in superturismo E abbandonare diciamo quelle che erano le ruote scoperte per le quali avevo corso E battagliato fin da bambino insieme a correre i carri Questa è una domanda che non avrà mai risposta E quindi il tuo accordo con il team Andrea Moda Formula era solo per il Motor Show diciamo? Solo per il Motor Show, sì Poi ci furono degli altri approcci per degli altri test Per delle sostituzioni anche lì di piloti in corsa Però ripeto, io a quel punto avevo firmato un contratto come pilota ufficiale di superturismo Insieme a Giorgio Francia, Larini e Nannini Eravamo i quattro piloti del superturismo di quell'anno E quindi non avrei nemmeno potuto muovermi più di tanto Per seguire quella strada e lasciare perdere tutto il resto Quindi diciamo che l'Andrea Moda, o per meglio dire la Coloni, dell'Andrea Moda l'hai guidata solo a Bologna? L'Andrea Moda l'ho guidata solo a Bologna, sì Sì, sì, ho capito Cosa puoi dirmi invece di Andrea Sassetti, il titolare del team? Andrea Sassetti è un personaggio molto, ma molto, diciamo, non so dirti un aggettivo per definirlo Sicuramente, ecco, posso dire che era abbastanza al di fuori del mondo della Formula 1 Quindi, diciamo, si era gettata in questa avventura Con, rilevando la Coloni, sicuramente con molto entusiasmo Con uno spirito costruttivo Però sicuramente non era a conoscenza del mondo della Formula 1 E nemmeno delle caratteristiche, diciamo, della Formula 1 Tecnicamente era molto, molto rustezzo, ecco, come conoscenze Però era anche un personaggio, sinceramente, molto estroso e molto anche simpatico Cosa pensavi al Motor Show di Bologna del 1991 Di quella nuova squadra, l'Andrea Moda, appunto Che si affacciava per la prima volta alla Formula 1 Che clima si respirava? Ma guarda, sinceramente, proprio per dirlo spassionatamente Pensavi, come sempre succede in questi casi Quando vieni chiamato in una categoria superiore a quella con cui eri abituato a correre e guidare Pensi ad andare il più forte possibile e a fare un bel risultato Questo valeva nei test con la Colonia, valeva per la gara del Motor Show E sì, poi dopo ovviamente pensavi, avevi un occhio buttato avanti Però, diciamo, la concentrazione era totale su quello che era l'evento del giorno Di quel weekend Per fare meglio possibile e poi magari ti avrebbe portato a firmare magari per l'anno dopo Però, ripeto, c'erano tante cose in ballo Perché c'era l'Andrea Moda Stavo facendo dei test anche con la GS di Formula 1 Che anche lì c'erano mille appirenti sotto Il mille piloti che venivano nominati Io nel frattempo avevo un piede, avevo già firmato per tre gare in super turismo Diciamo per difendermi dal non rimanere a piedi Erano anni un po' difficili perché eravamo anche tantissimi piloti Direi bravi nelle categorie minori E ce n'erano, se non vado male, ma circa 13-14 già in Formula 1 Comprese le prequalifiche e tutto quanto Quindi, nelle gare minori, in Formula 3, nel campionato italiano C'era un schieramento di piloti di grido molto, ma molto valido In Formula 3000, nel 91, aveva vinto il campionato Naspetti E avevamo vinto praticamente tutte le gare No, scusa, non aveva vinto il campionato Naspetti Aveva lottato per il campionato Zanardi, che era arrivato a secondo E le gare le avevamo vinte quasi tutte io, Naspetti, Zanardi e Morbidelli Quindi, diciamo, quattro piloti italiani Che erano altri quattro che si volevano affacciare alla Formula 1 Quando sopra ce n'era già più di dieci Quindi, sicuramente, era molto difficile per noi Poi, tra l'altro, nel 1992, appunto, tra i Gran Premi di Germania e Ungheria Un articolo riferisce che tu o Franco Scappini potreste prendere il posto di Perry McCarthy All'Andrea Moda Formula Sebbene il regolamento vieti, di fatto, al team di innestare un nuovo pilota in squadra Visto che avevano già fatto sostituzioni Cosa c'era di vero? Erano solo rumors? Ma, no, diciamo che poi c'erano anche piloti, fra virgolette C'erano piloti paganti e non paganti Come un po' è sempre esistito in quel periodo specialmente della Formula 1 E io, come tanti altri, eravamo quelli con più risultati Eravamo i non paganti A meno che non ti portassi avanti Camelo, Malboro O, come dicevo prima, uno sponsor di questo genere Poi c'erano piloti paganti Però, spesso, con i piloti paganti Questi team avevano delle discussioni, diciamo, dei problemi E quindi minacciavano di lasciarli a piedi E a quel punto venivano allertati altri piloti per sostituirli Però, insomma, c'erano già state delle sostituzioni Io ho saputo di questi voci, di questi rumor Ma, ripeto, io ero un pilota ben felice Di essere nel team ufficial Alfa Romeo Con cui stavo raccogliendo ottimi risultati Divertendomi, stavo bene Ti sarebbe piaciuto salire sulla nuova Andrea Moda S921 Il cui esordio in Formula 1 avvenne nel weekend del Gran Premio del Brasile del 1992? Senti, in una Formula 1 piace sempre Piace sempre salire La dimostrazione è che io e tanti miei colleghi Siamo saliti su Andrea Moda, su Life, su Simtech Su qualunque tipo di, su coloni, qualunque tipo di vettura Diciamo più o meno performante Che però, bene o male Ti dava la possibilità Cioè, comunque di metterti in evidenza È ovvio che, ripeto, l'affollamento Dello schieramento dei piloti italiani Di quel periodo sicuramente Tarpava un po' le ali a tutti Perché in condizioni normali Se tu sostituisci un altro pilota Come l'ho fatto da Imola con la coloni Subaru E vai nei test collettivi della Formula 1 Un secondo abbondante più veloce di un pilota Che già comunque aveva i piedi in Formula 1 Normalmente qualche In condizioni normali Non di sovraffollamento Quale era Qualche antenna Si addrizza Ecco, invece In quel periodo Era molto difficile Quindi, sì Venivi chiamato Rispondevi alla chiamata Cercavi di fare come al solito Andare il più forte possibile Però era veramente difficile Eravamo veramente tante macchine Con il discorso delle prequalifiche E non si arrivava mai all'obiettivo Che uno si prefiggeva Perché secondo te oggi C'è tutto questo interesse Attorno alle vicende Dell'Andrea Moda Formula Tanto che c'è chi sta preparando Un documentario Sulla storia di questa squadra Sinceramente Sinceramente non lo so C'è un po' di Si sta ricreando un po' Tutto Il vintage Sta rivenendo fuori Su tutto Pochi giorni fa Che sono stato contattato Da Dei signori inglesi Che hanno Ripristinato A nuovo Una BMW Del team Bigazzi Montescelco Quale io avevo debuttato Prima di Iniziare a correre Con Alfa Romeo E quindi Anche lì Mi sono ritrovato Chiamato Tra l'altro Per provare Questa macchina Ancora dobbiamo Accordarci Però ecco Che questo è un segnale Sia le vetture Il turismo Che le vecchie Formula 1 C'è un revival Nello specifico Dell'Andrea Moda Sinceramente Non lo so Però Anche le Formula 1 Come le Superturismo Come un po' Tutte le auto Di Di quell'epoca Stanno vivendo Una seconda giovinezza Al di là Di com'è andata A finire Che team era La La Rus In cui Teoricamente Dovevi entrare Nel 1992 Tu tra l'altro Ci sei mai salito Sulla La Rus O hai fatto Magari solo Il sedile Io La La Rus Ho fatto soltanto Il sedile Perché avevamo Raggiunto l'accordo Cioè aveva La Camel Raggiunto l'accordo Proprio in Estremis E Anche lì Il team La La Rus Lamborghini Era Uno step Superiore Era un po' A tutte quelle Che ti ho nominato Prima E ovviamente Non era A livello Di Ferrari McLaren Williams Però diciamo Era una Vettura Che Dalle prequalifiche Si tirava Quasi sempre Fuori E Ovviamente Io Ho corso Ho vinto Monte Carlo Con Camel Ho corso In Tremila Con Camel E ero Stato Portare Cioè era stato Messo Sulla La Rus Lamborghini Perché era Un team Un team Camel Addirittura In forma Tremila Io ed altri Piloti Eravamo Il Benetton Junior Team Creato Da Abbiatore Sempre per I piloti Camel Perché la Benetton Era già La Camel In quel periodo Però poi Quando la Camel Si è ritirata Compreso da Benetton Da tutte le competizioni Lì a 20 giorni Dal primo Campione Sudafrica È crollato Tutto E Ripeto A quel punto Avendo Il contratto Con Alfa Romeo Firmato Fu una delusione Così Così Forte Che Dissi Basta Adesso facciamo Soberturismo E mettiamo Una pietra sopra A tutto il resto Perché obiettivamente Sono arrivate Tante soddisfazioni Vittoria in Formula 3 Vittoria nei kart Vittoria in Formula 3 Vittoria in Formula 3mila Metti il piede In Formula 1 Firmi il contratto Con la Rus Lamborghini Camel Poi Crolla tutto Sinceramente Non è facile Raccogliere I pezzi E poi In pochissimo tempo Perché L'annuncio di Camel Fu a 20 giorni La prima gran premio In Sudafrica Ma anche la prima gara Il superturismo Non è che Non è che fosse stata Molto lontana Insomma Quindi È dovuto Ricomporre Tutto In poco tempo E per fortuna Poi è partita Diciamo La 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 seconda vita Quella che ha portato In superturismo Con altrettante Soddisfazioni Vittoria Chiaro Abbiamo detto Dei tuoi test Per Coloni E AGS Cosa puoi raccontarmi Di queste due squadre Da una parte Appunto abbiamo Il team di Enzo Coloni E dall'altra La GS Che nel suo ultimo periodo In Formula 1 Avrà una proprietà italiana Con Patrizio Cantù E Gabriele Raffanelli Sì Io in realtà Ho fatto Questi test Questi test L'anno prima Che venisse Acquistata Da Da Patrizio Cantù E Gabriele Raffanelli Tra l'altro Gabriele Raffanelli Era il Il proprietario Assieme a Bigazzi Del team Bigazzi Che ti dicevo prima Quella BMW Montescelle Con cui ho debuttato In In superturismo Quindi erano Tutta una serie Di Di incroci E Però ecco no Io ancora La proprietà Era Era francese Quando io ho fatto Il Il Quei test lì E ripeto Ci sono andato a finire Grazie a Sia Gabriele Traquini stesso Con cui eravamo Amici Perché comunque Correvamo con Cali Kart Quando eravamo Molto Ma molto Ma molto Più giovani Già nei Kart Lui nel 125 E io nel 100 Eravamo piloti ufficiali Della Cali Kart E quindi Lui era in Formula 1 E io ero stato pilota Di Peter Weiss L'ingegnere Che era il suo ingegnere Capo macchina In AGS E quindi Fui Fui chiamato Anche perché forse Fare tutto lo sviluppo Del cambio trasversale Gabriele Si era Anche un po' stancato Perché praticamente Dovevi fare un sacco di giri Stare un sacco di tempo In macchina E poi Tanto anche tempo Magari se c'era un problema Tanto tempo fermo Quindi Facevi magari dieci giri Poi c'era un problema Venivano fatte delle Modifiche Magari Risalivi giorno dopo Quindi Era un impegno Abbastanza importante Quindi forse Fui chiamato Anche per alleggerire Un po' Il peso Nelle spalle di Tarquini Dal Mas Che erano i piloti Con cui Poi Poi lo raffrontavano Il campionato No però Ripeto Esperienze Esperienze Sempre molto Molto belle Perché poi dopo Comunque sia Io ero un pilota Di Formula 3000 Facevo queste esperienze In Formula 1 Mi alternavo In superturismo Tutto Tutto ti serve Se Il problema è quando Non guidi Quando non corri E quando stai a casa Quando Quando c'hai Quando stai C'è il problema di stare Troppo in pista Troppo seduto in macchina Non è mai esistito Insomma Quindi sono sempre Sempre esperienza Che metti In In background E sulla Coloni Invece Cosa puoi dirmi In particolare Su Enzo Coloni Enzo Coloni Posso dirti Che Che era Un Una persona Molto Un conoscitore A differenza Di Magari Di quello che era Il team Poi di Andrea Di Andrea Moda Enzo È un conoscitore Di Di tecnica Di macchine Sopraffino Lui Lui ha corso Ha vinto In Formula 3 Quindi Sa di cosa parli E Poi aveva Acquisito In tutti gli anni Con dei team Vincenti Di Formula 3 Un'esperienza Molto Molto Profonda Quindi Riusciva A vedere Mentre vedeva La macchina girare Quando tu ti fermavi E parlavi con lui E parlavi con lui Sicuramente Sapeva Sapeva Tecnicamente Di quello Di quello Che stavi parlando Di quello Qualche erano I tuoi I tuoi problemi Quindi Lui è stato contento Di avermi In questi test Sia con la Coloni Cosworth Quando addirittura Il circuito di Magione Quello vicino Alla loro Factory E Abbiamo fatto Diversi test Lì Sia quando Mi hai chiamato Con la Coloni Subaru Sia Quando ci siamo Poi ritrovati Con la Andriamo Dal Motor Show E Poi dopo Per il resto Come Come tutti In quel periodo A fare il cambio Di passo Ha avuto problemi Insomma Come Mi ricordo Dei team Di Formula 3 Di quel periodo Tantissimi Facevano il passo In Formula 1 Lo ha fatto Guido Forti Lo ha fatto La Fast Racing Con l'Amberto Leoni Con la Life È stato fatto Dal mio team Di Formula 3000 Con cui ho vinto Alemanna La Pacific Racing Di Kate Wiggins Fece Fece il team Di Formula 1 Due anni dopo Che io Ho corso con loro In Forma 3000 Però poi Sono tutti Sono tutti Usciti Abbastanza Con le ossa rotte Insomma Non è Era semplice Metterlo in piedi Però poi Non era semplice Rimanere Rimanere Realmente anche loro Come per noi piloti Mancava forse Una scinchilla Bastava Un piccolo Risultato Qualcosa Che Avrebbe fatto Sicuramente Svoltare Nella situazione Certo Enzo Coloni Possiamo dire Che è stato un po' Il tuo contatto Per disputare Il Motor Show Di Bologna Con l'Andrea Moda Nel 91 Assolutamente Sì Ritengo Che io fu chiamato Un po' Dall'entourage Dall'entourage Dell'Andrea Moda Però ecco Non sono Certamente Sicuramente Convinto Che Fu Enzo Fu Enzo Coloni A suggerirmi A suggerirmi Diciamo Per quel tipo Di manifestazione Di gara Anche perché Comunque Era sempre Un circuito Diciamo Cittadino Cittadino Sui quali Parliamo Del 91 Io avevo corso Con ottimi risultati A Poo in Formula 3000 Venivo fuori Dalle ottime gare Di Macao In Formula 3 E la vittoria Di Monte Carlo In Formula 3 Sempre al circuito Cittadino Quindi comunque E anche dai test Che lui aveva visto Che avevo fatto Sul circuito di Magione Che è un circuito Molto piccolo Per un Formula 1 Probabilmente Aveva visto Che riuscivo A guidare Bene La macchina E velocemente Quindi aveva suggerito Il mio nome Anche perché Eravamo tantissimi Piloti In quel momento Quindi non Non vedo altri motivi Per cui sarei dovuto Finire Sarei dovuto finire Io Su un'andere a moda Spostiamoci invece Adesso a parlare Un po' Del tuo periodo In Formula 3 Come appunto Accennavi L'apice Possiamo dire Nel 1989 Quando Dopo aver ottenuto La pole position Vinci il Gran Premio Di Monaco Di Formula 3 Su una Reynard Alfa Romeo Del team Prema Di Angelo Rosin E Giorgio Piccolo Come è maturato Quel fantastico risultato Su una pista storica In un contesto Altamente competitivo Ma guarda Lì è maturato In una maniera Così abbastanza Venivamo dal Avevamo Su l'alle dell'entusiasmo Delle prime due vittorie Nelle prime due gare Del campionato italiano Di Formula 3 Quindi io ho fatto Le prime due gare Le ho vinte tutte e due Poi siamo andati A Monte Carlo Con questa Reynard Alfa Romeo La Reynard era un po' Una cosa un po' Strana Perché Nel campionato italiano Erano anni dominati Dalle vetture Dall'ingegner Dallara Uno perché erano Penso l'ottanta Abbondante L'ottanta per cento Delle vetture schierate In tutto il campionato Di Formula 3 E due perché erano Molto veloci Erano sempre state vincenti Quindi il fatto Che la prema Anche l'anno prima Aveva avuto Aveva le Reynard Io sinceramente Non fu una scelta mia Ma anche lì L'anno prima Fui scelto A Imola Che ero in pole position Lì c'erano i dirigenti Camel Che stavano mettendo in piedi Il team Per far debuttare Già qui il Neve L'anno successivo E quindi Probabilmente Volevano mettere Un pilota Esperto E veloce Io esperto Lo ero Perché era il mio terzo anno Di Formula 3 Veloce Perché in quella gara Di Imola Era l'ultima gara Dell'ottantotto Io ero in pole position E quindi Non so se per quel motivo lì Oppure perché magari Ovviamente consigliati Anche da Dalla Dalla prema Con Con la quale Avevano già Definito Probabilmente Il programma Dell'ottantanove E io Fui contattato Già in quella gara Lì a Imola E poi trovammo L'accordo E fui ingaggiato Per Per l'anno successivo Quindi andammo a Monte Carlo E fui subito Veloce Fin dall'inizio Angelo Mise Mise in piedi Un Appunto Una macchina Veramente Veramente Formidabile E quindi Diciamo che Dominai Perché Feci una pole position Con quasi mezzo secondo Sul secondo E In gara Se avrebbe qualche problema C'avevo Un'altra Rainer Malvo Però Non Camel Di Andrea Montermini Che è stato dietro Attaccato Per Per tutta la gara E Anche se il giro Più veloce Lo fece Riccardo Aidell Però Diciamo Ce la siamo giocata Io E Montermini Per tutta la gara E ho un po' di problemi Sulle gomme anteriori Però Sono riuscito A portarla A portarla a casa E sicuramente È stata Una Una Gran Gran soddisfazione Certo E dopo il clamore Della vittoria A Monte Carlo In Formula 3 Hai ricevuto Delle offerte Magari per passare Subito In Formula 1 Oppure no? Ma Guarda Anche lì Ti ripeto C'è stato Secondo me Ho E abbiamo Subito Tutti quanti Lo stesso problema Che ti accennavo prima Cioè L'affollamento Del Dei piloti Italiani Già presenti In Formula 1 E comunque Un Un netto vantaggio Dei piloti Dei piloti Stranieri Con Con I team inglesi Perché poi I team inglesi Qualcosa Di francese Che erano Diciamo I dominanti In Formula 1 Sempre Ma che In quel periodo In particolar modo Sicuramente Ci ha fatto Ci ha creato Delle Delle Difficoltà Tant'è che A Monte Carlo Quando Ho vinto C'era C'era Tanti piloti A cominciare Da Mika Hachinem Ma anche Gli stessi I stessi Tedeschi Schumacher Wendlinger Wendlinger Frenzen Che anche lui Era a Monte Carlo Quando ho vinto io E anche in Formula 3000 Con noi Però A un certo punto Furono presi Tutti e tre E vennero messi Sulla Mercedes Di Gruppo C E A noi Noi non abbiamo Noi italiani Non abbiamo mai avuto Diciamo Sbocchi diversi Dall'essere presi Magari Chi da Marlboro Chi da Camel O da eventi particolari Singolarmente Di essere E aver trovato Uno sbocco In Formula 1 Quindi Ti dico Anche In Formula 3 Dopo la vittoria a Monaco Sinceramente Non ci sono stati Dei grossi Dei grossi contatti Io ho portato avanti Il mio cavallo di battaglia Che era Era questa Questa L'essere Questo essere pilota Camel Quale hanno poi Portato avanti Due stagioni In Formula 3000 La seconda Con Pacific Racing Che sinceramente Aveva portato poi I suoi risultati Perché io ero pilota Camel E Era venuto fuori Poi la firma Con Con un team Satellite Camel Che era la Russia Hamborghini Poi dopo Non si è Chiudo il cerchio Certo E chi erano i tuoi avversari Più tenibili Quando gareggiavi In Formula 3 Formula 3 Se prendi Se prendi Uno schieramento Di una Di una gara Dell'89 Sinceramente Ci sono dei piloti Dalle calci baffi Che poi ho ritrovato In Formula 3000 Qualcuno Lo ritrovi Nei schieramenti Di Formula 1 E poi ci siamo ritrovati Poi in sofferturismo Ma Insomma Se ti dico Se ti dico Senza volerne Dimenticare nessuno Ma già dirti Morbidelli In Aspetti Giovanardi Zanardi Mi fermo qua Però insomma C'era un Uno schieramento Veramente Di piloti Veramente vari Un bel parterre Diciamo Sicuramente Guarda Se tu prendi Delle Degli schieramenti Nelle piste piccole Dove si qualificavano Anche l'Informa 3 Ripeto Quello stesso problema C'erano quasi Quaranta macchine Nelle piste corte Tipo Varano De Melegari O appunto Magione Si qualificavano 14 macchine Le altre dovevano fare Delle batterie Di ripescaggio Per avere accesso Alla finale Ecco tu pensa che Io ho avuto la fortuna Di non cascarci mai Ma a rotazione Tantissimi piloti Anche molto bravi Sono andati a finire Nel ripescaggio E magari Non qualificati Lo stesso mio compagno Di allora Jacques Villeneuve Anche se era Il primo anno Quindi ovviamente Con tutte le scusanti Del caso Però Bastava Un decimo Un errore Nel giro di qualifica Che andava a finire Nel ripescaggio Perché eravamo in 40 Ne passavano 14 Quindi era veramente Un campionato Super competitivo In Formula 3 Non è poi arrivato Il titolo Nel campionato italiano Cosa è mancato Per raggiungere Anche questo traguardo Lì è mancata È mancata Diciamo un po' Di costanza Di rendimento Durante la stagione Perché poi Diciamo che Ce lo siamo giocati Io e Gianni Morbidelli Sia l'italiano Che l'europeo Perché poi Io sono vice Campione italiano E vice campione europeo Però Diciamo che io Abbiamo avuto Un grosso problema Nella fase centrale Della stagione Perché siamo partiti Vincendo tutto Due gare Del campionato italiano E Monte Carlo E poi dopo Non so dirti Il motivo Se è un motivo Di involuzione Tecnica nostra O se Ci sono state Altri Altri motivi Che io Non ne sono A conoscenza Però abbiamo Cominciato Ad andare In realtà Più piano E quindi E quindi Non abbiamo fatto Più primo Secondo Ma abbiamo fatto Dei quarti Quinti posti Sempre ovviamente Nella parte alta Dello schieramento E della classifica Però Siamo tornati A vincere A vincere Gare Gare Nel finale Soltanto Quando ormai Gianni Morbidelli Aveva vinto Il campionato Quindi Ci siamo presi Il secondo posto All'italiano All'europeo E la vittoria A Monte Carlo E sicuramente Una stagione Una stagione Brillante Sia per noi Che per Che per Camel Che fortunatamente Poi ha mantenuto Diciamo La sponsorizzazione Per gli anni Di Formula 3000 Alla prima In Formula 3 Hai diviso Il box Con un certo Jacques Villeneuve Futuro campione Del mondo Di Formula 1 Con la Williams Nel 1997 Come erano I rapporti Tra di voi E cosa puoi dirmi Del figlio Del grande Ma io Del figlio Del grande Gile Non posso Che parlarne bene Perché comunque È stato Un compagno Di squadra Un amico Ovviamente Come ti ho detto All'inizio Quando Camel Ha messo Sul team Ha messo Sul team Per un pilota Al suo primo anno Di Formula 3 Mettendo in fianco Un pilota esperto Che ero io Ovviamente Lottato Per Per la vittoria Lui non veniva Dai kart Ma aveva fatto Soltanto Dele gare Con un Alfa 33 Nel campionato Turismo Quindi Non aveva Esperienza Io per dire Venivo da 10 anni Di kart Digo kart A livello Di campionati Italiani Europei Ero campione Italiano Mondiali Quasi tutti gli anni E lui non avendo Fatto questo Immagino che Possa essere stato In forte difficoltà Abbiamo fatto Diversi test Pre campionato Ma non bastano Per 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 diventare Pilota Molti L'hanno criticato Per quegli Scarsi risultati Fatti Nell'anno In cui Era Era mio Compagno Di squadra Però Io Posso Soltanto Dire Che Questo Era L'anno 89 Nel 97 Se non sbaglio Quando ha vinto Il mondiale Lui è venuto Abbiamo fatto Una grossa Festa Qua Dove Abito Io A festeggiare Il campionato La vittoria Del campionato Di formula 1 Quindi tu Considera che Dall'89 Allo 97 Ci sono Soltanto 8 anni E lui In questi 8 anni Si è fatto Tutta l'esperienza In formula 3 E' andata a correre In giappone E' Ha vinto Ha vinto La Poi è tornata Negli Stati Uniti Ha vinto La Minindi Formula Minindi Ha vinto Indianapolis E' venuto In formula 1 E ha vinto Il campionato Del mondo Quindi Sinceramente Non Suggerirei A chi Ha mosso Diciamo Delle Critiche Per l'anno O gli anni In formula 3 Di Giac Sicuramente Fare Il giro Del mondo E tornare Dopo 8 anni Da Debutare A guidare Una macchina Rientrare Il campionato Del mondo Formula 1 Non è un percorso Poi tanto Tanto lungo Dopo Sicuramente Avrebbe potuto Trovare Magari Qualche Difficoltà In più Con delle macchine Magari Meno veloce O entrare in formula 1 Non quella Williams In quell'anno lì Ecco Magari qualcuno Potrebbe dire Sì Anch'io Sono entrato In formula 1 Però sono entrato Con una macchina Che non andava avanti E quindi Campionato del mondo Non ci sono diventato Quello è tutto vero Però I fatti I risultati Purtroppo Parla Complice anche Il successo A Monte Carlo Formula 3 Nel 1989 Sei entrato in contatto Con i grandi piloti Della Formula 1 Dell'epoca Hai dei ricordi Magari inerenti A qualche pilota Di formula 1 A cui sei Particolarmente legato Ma guarda Legato Molto legato Sono A tutti i piloti Che erano In quel periodo In formula 1 Italiani Ovviamente A cominciare Da Alessandro Nannini Riccardo Patrese Martini Tarquini Come ti dicevo Prima Che conoscevo Molto bene Però il ricordo Il ricordo più bello Visto poi anche Quello che è successo E appunto Con Elton Senna Che come Tutti Come tu ben sai Ma non tutti sanno Il vincitore del Formula 3 Viene invitato Alla gara Alla premiazione Del Formula 1 All'evento Diciamo Allo Sporting Club Del Formula 1 A Monte Carlo E Il vincitore del Formula 3 Viene messo al tavolo Del vincitore del Formula 1 E chiamano solo Il vincitore del Formula 3 Non è che chiamano I primi tre I primi cinque I vincitori del Formula 1 E a fine serata Chiamano nel palco Il vincitore Del Formula 1 E il vincitore del Formula 3 Quindi chiamarono Elton Senna E Antonio Tamburini Nel palco Con Con uno smoking A noleggio Preso dalla mamma Di Jacque il Neve Che mi aveva aiutato A far riaprire un negozio Per noleggiare uno smoking Perché ovviamente Non l'avevo E Ti trovi nel palco Con Elton Senna E Rechals Che suona Il piano E i fuochi d'artificio Che partono Sicuramente È un Un bel ricordo Insomma Una bella cosa Poi Da lì Diciamo che Ho avuto la possibilità Di incontrare di nuovo Alle gare di Formula 3000 Con comitanti Con il Formula 1 E Ayrton Senna Che si è sempre poi Rilevato Una persona Splendida Perché era il primo A saltarti E addirittura Una volta Si è messo a parlare Con il mio ingegnere Di cose tecniche Della Formula 3000 Rispetto alla Formula 1 Quindi Un appassionato vero Non solo Per dicerie Ma proprio Te lo posso confermare Perché poi Nel 1992 Hai scelto La strada Del superturismo Italiano Con l'Alfa Romeo E il Jolly Club Inizialmente Non c'era per esempio La possibilità Di ritentare Con la Formula 1 Nel 1993 Ma no Perché quando Quando fai Un passo del genere Che abbandoni Ci sono state Tante cose In parte L'ho già spiegato prima E ci sono C'erano tante Tante difficoltà La Formula Addirittura C'era anche E io ero stato Chiamato in Giappone Dal Dal team Le Mans Per la Formula 3000 Giapponese Che era un campionato Anche quello Molto vicino Alla Formula 1 Per il Giappone Limitato al Giappone Però molto Molto importante Dove i piloti Erano ben Ben pagati E Dove peraltro Ne hanno dato Alcuni miei Colleghi Andò Marco Picella Mauro Martini Andò anche già Qui in Nev Poi dopo Dopo l'esperienza In Formula 3 italiana E Però Non lo so Ripeto Sono decisioni Che prendi abbastanza Velocemente Avevo iniziato già A correre In superturismo Con BMW Avevo vinto Era andato subito bene Non sempre I piloti di Formula Si trovano bene In superturismo Quindi Mi ero visto Questa Giustamente Tra l'altro Ho visto poi Quello che è successo Questa carriera In superturismo In superturismo davanti E avevo Da cambiare Delle cose Certe Per l'incerto In superturismo Avevo contratti Richieste E Contratti Ovviamente Remunerati E Un Diciamo La possibilità Di andare avanti Nel tempo Non sapevo Che aveva le corse Dieci anni In superturismo Ma sicuramente Nemmeno uno Di là Avevo tutte cose Che Non sapevo In Giappone Era ben remunerata Anche lì Però Tutte le altre strade Non sapevi Né Quanto potevano durare Né che risultati Avevi E Quindi Scelsi la strada In superturismo E Come andò La successiva Esperienza Con il team Nord Auto Di Mauro Sitz E Monica Bregoli Nel 94 Hai sfiorato Il titolo italiano Superturismo E hai corso Per loro Anche nel 95 97 98 Sì È andata È andata Molto bene Perché Io ripeto Praticamente Dalla BMW Dell Del 88 Io ho fatto L'ultima Gara Con la 156 Quando fui Richiamato Appunto Dal Team Nord Auto Per Per aiutarli Nella vittoria Del campionato Che era Il 98 Sì Che era Il 98 Forse il 99 Ma mi sembra Il 98 E Quindi sono stati Tanti anni Sono state vinte Tante gare Fatte Pole position Purtroppo Gli anni Diciamo Con più Vittorie Sono concisi Invece Con Con La vittoria Dell'Audi Perché ci siamo Trovati a combattere Sia io Che il mio compagno Di squadra Di allora Giovanardi Con Con l'Audi A4 Prima con l'Audi 80 Poi con l'Audi A4 Di Piro e Capello Che purtroppo Nonostante il campionato Era un campionato Molto ben organizzato E cercavano di livellare Le prestazioni Tra le vetture Posteriori BMW Anteriori Alfa Peugeot Opel E 4 Automotrici Audi Però Come sempre accade In questi casi In quel periodo lì Non ci sono riusciti Molto bene Tant'è che l'Audi Secondo me Aveva un vantaggio Che si è rivelato Poi fatale Per noi Perché ha vinto Diversi campionati Di fila E poi ecco Se lo spendeva Piano piano Questo vantaggio Quindi ogni volta Che noi miglioravamo Loro allungavano Un po' quello che ha fatto Mercedes Negli ultimi anni In Formula 1 Ogni volta che sembrava Quasi raggiunta Poi tiravano avanti Un altro Un altro step Quindi Io sono arrivato Sono due volte Dice campionato italiano Di atropirlo Insomma Come migliori Risultati Però Anche lì non mi posso Rimproverare niente Sono stati anni Molto Molto belli Veloci Ancora oggi Mi riguardo Qualche gara Insieme agli amici Divertenti Per concludere Di cosa hai incominciato Ad occuparti Dopo le corse? Allora Io Ho Tuttora Una concessionaria Di auto Che è una concessionaria Di famiglia Che ho seguito Un po' poco Durante Durante le corse Un po' di più Negli ultimi anni Una concessionaria Che vende Alfa Romeo Jeep Per quello che riguarda I marchi del gruppo Stellantis E Kia E sinceramente Sono rimasto Nel mondo dei motori E mi piace Mi diverto Allora Antonio Io ti ringrazio molto Per questa bella chiacchierata E alla prossima Grazie a te A presto A presto Ciao Ciao Grazie a tutti